Per due obiettivi. Dopo il mancato incontro a Palazzo Chigi per il riparto dei fondi Fondo, Sviluppo e Coesione, venerdì a Roma, De Luca ora punta al Quirinale. Sblocco dei fondi FSC per il Sud, per i comuni, per le infrastrutture, per i campi flegrei, per la cultura. Chiederemo un incontro al Presidente della Repubblica. Chiederemo di essere ricevuti con una delegazione di sindaci per spiegare le ragioni di questa battaglia, scritto il Governatore sui social. Tante polemiche e tensioni sino all'insulto di De Luca contro la Premier Meloni e il mancato dietro front. E la Meloni che insulta il Sud. E Quirinale a parte, nella prima settimana di marzo è previsto un'altra manifestazione sempre organizzata dal Governatore, sempre con la richiesta di chiudere l'accordo per i fondi con gli imprenditori. E proprio lo scontro diretto con la Premier, al di fuori dei canali istituzionali, continua ad essere al centro dello scontro politico, con ripercussioni anche all'interno del Partito Democratico. La segretaria, Ellie Schlein, infatti, è molto imbarazzata per quel fuorionda di De Luca contro la Meloni e ha evitato di commentare l'accaduto. Prova invece a fare da paciere tra De Luca e il ministro fitto, Matteo Renzi. Infine rientra nel pieno dello scontro anche il ministro della Cultura, Gennaro San Giuliano, protagonista giorni fa di un fitto botte e risposta con l'ex sindaco di Salerno.